Il concorrente che resta in... al centro del palco è Ferdinando Cioppi, concorrente numero... Buonasera Ciao a tutti Ok, Rob, Rob, via musica Allora, come va Ferdinando? Bene, grazie, buonasera a tutti Bene, facciamoli un applauso, dai, oi, ehi Rob Allora, chi non applaida lo prendiamo di forza e lo buttiamo fuori, eh, al freddo e al gelo, eh, allora Allora, scherzo, eh, allora, scherzo Concorrente numero uno, Ferdinando Cioppi Allora, nome, facciamo una presentazione, no? Ferdinando Cioppi Ecco Per gli amici Nando Ok, allora, Nando, da dove arrivi? Io vengo da Marsciano, abito a Marsciano Marsciano Ok Ehm... esperienze artistiche? Sì, un po', un po' di tutto Germania, soprattutto Ah, Germania E quindi ha avuto... Perché sono nato e cresciuto qui In Germania Ok, sappiamo un po' di Ferdinando Bene Ehm... vuoi dire qualcosa? Sì, è stato un po' di Ferdinando Sì, eh, sono nato e cresciuto in Germania, appunto Sono da due anni qui, siamo rimpatriati Io e il mio moglie È stato un trauma tornare in Italia? No, 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 no Ma in Germania dovrebbero stare meglio, eh, che in Italia No, eh, questo è... No? Ok, va bene, allora smenti Molto comune pensare così Però non è vero No, non è più la Germania di 40 anni fa Ok, va bene, così mi rincuoria Sì sì, meglio che tutti i bravi tornino in Italia così forse Bene, allora, Ferdinando cosa porti? Porto un brano di un artista che si chiama The Angelo scritto da Angelo però non è Nino è un soul, un soul contemporaneo è intitolato How Does It Feel? Ok, meglio Un applauso Un applauso E questo è il tuo 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 Grazie a tutti 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 This is good Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti